Parecchi anni di vita mi hanno fatto maturare sempre più la convinzione che l'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Incontrando o ascoltando ammirati che soffrono, migranti che affrontano tremende difficoltà in cerca di un futuro migliore, carcerati che portano l'inferno per il cuore, persone, specialmente giovani, che non hanno lavoro, ne accompagna su cui sei in natale. Ciao 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 La ricerca della convinzione dell'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Incontrando o ascoltando ammalati che soffrono, migranti che affrontano tremende difficoltà in cerca di un futuro migliore, carcerati che portano l'inferno nel proprio cuore, persone, specialmente giovani, che non hanno lavoro, di un futuro migliore. Mi accompagna spesso una domanda. Cosa 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 Cosa